Si tratta di un recupero della dimensione collaborativa all'interno dell'area mediterranea ed aeromediterranea con il coinvolgimento di cinque paesi della sponda sud del Mediterraneo e del vicino oriente Marocco, Algeria, Tudisia, Giordania ed Egitto e con questi paesi, grazie al finanziamento della regione siciliana sono stati attivati ulteriori scambi accademici e collaborazioni scolastiche tali da poter effavorire una nuova e più matura sensibilità internazionale moltiplicando le occasioni di scambio, l'esercizio linguistico e la conoscenza delle rispettive culture nella dimensione prospettica della pace e della tolleranza nel Mediterraneo.